Quando mi ha chiamato quest'estate, nel pieno dell'estate, Jacopo Guerriero, per l'editore Giunti, per la presentazione di questo libro, mi ha detto dove possiamo presentarlo se non in una comunità come quella di Sant'Egidi. Ho detto grazie, anche perché credo che questa discussione trova qui un terreno fertile di una comunità che ogni giorno lavora per il cambiamento del mondo. Per cui sono molto contento di dare ora la parola ad Andrea Riccardi. Grazie. Io qualche volta, quando si parla di futuro, mi torna in mente un vecchio verso di Voitila da giovane che dice «L'uomo soffre soprattutto per mancanza di visione». Noi soffriamo di mancanza di visione. Perché noi facciamo discorsi sul futuro senza la Terra. Noi non parliamo mai della Terra. E facciamo discorsi sul futuro senza parlare mai della storia. Ma qui, e non lo dico da storico, ma Terra e storia vanno insieme. Geografia e storia vanno insieme. Per questo, nelle chiacchiere imbarazzanti che sentiamo in questo periodo, questo dialogo e questo libro di Carlo Petrini, io lo trovo un libro che fa pensare, sia come contenuti, sia come proposta di metodo, il dialogo. Leggiamo anche, sono belli anche i cinque temi trattati, ma tu l'hai detto, Sor Alessandra, non insisto. Ma vediamo un po' i due protagonisti. Ma due protagonisti così del dialogo, ma proprio diversi. Qualcuno dice qui nel libro «Il diavolo e l'acqua santa». Due personaggi diversi. Su Carlo io vorrei dare due pennellate. Uno un po' più per ridere, no? Quando lui dice, ma dei gastronomi tutti pensavano che fossimo dei buontemponi del mangio e bevi. Che non sentissimo l'esigenza di conoscere l'agricoltura, la chimica, la politica. Invece il gastronomo non è solo quello che prepara o mangia il piatto, ma pensa a quello che c'è nel piatto. Sì, è simpatico, è bello, è vero. Siete anche dei buontemponi convertiti. Che per voler essere buontemponi più a lungo, avete pensato a quello che c'era dentro il piatto e la terra da cui viene. È bello questo, perché Carlin ci traccia qui il suo itinerario, ma c'è una pagina secondo me ancora più bella su cui io vorrei fissare un po' il mio intervento. Lui parla della sua storia, parla della biodiversità, ma che c'entra lui con la biodiversità? Beh, lui dice, io ricordo molto bene come nell'ampia piccola città di Bra, nel cuore della provincia cuneese, la palestra di noi aspiranti rivoluzionari, Carlo è un uomo di sinistra, sia stata niente meno che la società San Vincenzo di Paoli. Da volontari lì abbiamo imparato l'impegno, l'organizzazione, abbiamo praticato la creatività e sviluppato il nostro pensiero sul mondo. In quegli anni, pensate che bulimia, frequentavamo San Vincenzo, Arci, partito di unità proletari e bar della città in cui la democrazia cristiana dominava incontrastata. E lui dice, io sono figlio di questa commistione di pensiero, una biodiversità culturale e intellettuale. Io credo che questo è molto importante, perché la biodiversità culturale e umana, intellettuale, chiamala come vuoi, è connessa alla biodiversità del patrimonio genetico del pianeta. E il loro decadere con la globalizzazione stanno andando insieme. Certo, tu parli del periodo dell'ideologia degli steccati, quando c'erano identità forti, ma una visione intelligente delle cose e io stesso, cristiano, non posso non dirmi laico. Benedetto Croce nel 44, quando infuriava la guerra, scriveva perché non possiamo non dirci cristiani. Questo non è un politicali corretto, non è un sincretismo, ma è vivere la complessità della realtà in se stessi. Bergoglio, Bergoglio in questo libro fa una dichiarazione che forse se la poteva risparmiare, perché lui dice, e qui si rivela la sincerità dell'uomo, fino a Paresida, Paresida di quando è? 2007. 2007. Fino a Paresida, io proprio la questione ecologica non me la ponevo. Sì, tu non lo dovevi dire, non è politicamente corretto, non me la ponevo. Anzi, quando eravamo alla riunione della conferenza episcopale a Paresida, tutti questi vescovi dell'Amazzonia che parlavano della questione ecologica, mi avevano un po' scocciato e progressivamente ho preso coscienza di questo. Però Bergoglio emerge da queste pagine e figlio di una Buenos Aires plurale, la Buenos Aires con la più grande comunità ebraica, il rapporto suo con la professoressa marxista, il suo essere italiano per metà nel cibo perché tu lo vai a indagare non solo sulle questioni spirituali, ma sulle questioni di tavola. Però essere argentino è essere in fondo un uomo meticcio, un uomo capace di avere in sé, di vivere in sé la complessità anche in questa sua spiritualità gesuitica. La crisi della globalizzazione, il processo di globalizzazione riguarda la biodiversità e qui è ampiamente spiegato in questo libro, è inutile che io insista, ma riguarda anche le identità plurime che si sono andate costituendo nella storia, le dissolve e le scioglie. Le donne e gli uomini sono più soli e non sanno da dove vengono e anche non sanno dove vanno. E in fondo il mondo globale è il mondo dell'economia, il mondo dell'informazione per cui tutto si vede, tutto si sa o si crede di sapere, ma non abbiamo costruito una globalizzazione a misura umana o a misura spirituale. È il grande tema dell'incontro delle religioni. Non abbiamo costruito una comunità internazionale che funzioni. È il tema del dilagare della guerra che oggi, basta vedere il nostro Mediterraneo con le sue prove muscolari, guerra che non si nasconde nemmeno dietro alle motivazioni ideologiche. Diceva nel 68 il vecchio patriarca Atenagora, guai se il mondo si unificherà, ma le chiese, le spiritualità, le religioni non si unificheranno. Ma unificare non vuol dire omogeneizzare, ma vuol dire parlare insieme e sentirsi un'unica comunità di destino. insomma, la civiltà globale non è riuscita a costruire la civiltà del vivere insieme. In altri termini, la civiltà, una civiltà ecumenica. Nel Novecento, il settanta per cento della biodiversità è andata perduta. Ma oggi il coronavirus ha fatto esplodere un allarme. Ma di fronte all'allarme, tu lo dicevi, le reazioni sono plurime, contraddittorie. E mi sembra Carlo, portando avanti la sua intuizione, lavori su due assi. Uno, il pensiero attraverso il dialogo con gli altri. C'è bisogno di pensiero, c'è bisogno di visioni. L'altro, l'esperienza nella realtà, anche piccola ma vera. Cioè, qui c'è un mondo da ricostruire su piani convergenti. Perché nel mondo globale la terra e l'umanità si sono desertificate. Il tema della desertificazione dell'umanità è fondamentale. Pensate alle periferie. Alla periferia della città africana, visivamente la città africana mangia la campagna in un modo rapace e violento, senza un equilibrio tra città e campagna. E pensate, pensiamo, che nel 2007, per la prima volta nella storia dell'umanità, gli abitanti delle città hanno superato gli abitanti delle campagne. E questo, Carlo, in tante letture è stato considerato un segno di progresso. Abbiamo sottratto milioni di persone a condizioni inique, senza elettricità. In realtà, questo ha significato la creazione di enormi periferie. E allora noi troviamo che nella città globale, non più città, i protagonisti sono due. La periferia. Noi parliamo qui di periferia dalla fine degli anni Sessanta. Periferia umana e urbana. Ma non solo la periferia, la solitudine. Marco evocava il tema degli anziani. Ma pensiamo che il 45% delle persone a Milano vive solo. A Roma siamo un po' più socievoli. Il 44%. E c'è in queste due malattie profonde la distruzione della biodiversità del nostro vivere. Nel Libro della Genesi noi leggiamo che Dio guardò l'uomo e disse non è buono che l'uomo sia solo. Facciamogli un aiuto simile. Ma noi non abbiamo mai riflettuto su una cosa. Non è che dice Dio guardò la donna. Guardò l'uomo il maschio. La forza. L'autosufficienza. La protezione. Non è che dice guardiamogli la donna, sta poveraccia. Fragile. Che dovrà partorire tra i dolori. Come dice il Libro della Genesi. facciamogli un compagno forte. No. L'uomo forte ha bisogno di una compagna simile a lui. Perché in tutto il pensiero biblico la solitudine è il male. La solitudine è la condanna. Me ne andrò ramingo e solo. E allora qui è la grande mistificazione. Uno dei temi trattati in questo libro è il tema del populismo. Nei deserti indotti dalla globalizzazione si sviluppa questo surrogato di essere insieme che è il populismo. Che è l'illusione di avere un'identità l'illusione di avere un'appartenenza soprattutto attraverso due processi. L'identificazione in un maschio capo dominante predatore predatore anche nei confronti della terra perché lo vediamo anche in certe figure di leader politici la politica per esempio brasiliana nei confronti dell'Amazzonia e negatore per esempio del coronavirus. Il populismo si identifica talmente in questo maschio che tutto può dire la coerenza non esiste è il suo carisma e questo direi è il primo aspetto e il secondo aspetto è il nemico. Il modo di ragionare di Francesco di Carlo Petrini vorrei dire di noi non è la cultura del nemico ma è la ricostruzione del noi attraverso il dialogo e non l'omologazione. Allora io qui vi leggo qualcosa che è molto bello per fare gustare il libro. In questi tempi dice Francesco vanno forti i populismi che sono la strada più comoda per non far emergere il popolarismo l'anima vera del popolo. Il populismo non c'entra nulla con il popolo. E poi un po' prima la cultura del nemico qui parla da contadino quasi Francesco dice non bisogna andare allo scontro come le galline del pollaio che si beccano e si attaccano e poi continuano la loro vita normale senza che nulla cambi. è così. Questo è proprio l'intento di coloro che si accendono eccetera eccetera. E tu riesci con serenità a far tirare fuori al Papa delle espressioni originali proprio perché lui sente che il dialogo con qualcuno che è allo stesso tempo simile e diverso non è buono che l'uomo sia solo tutti abbiamo bisogno di compagni simili e diversi. E qui faccio notare il tema del popolarismo che è un tema nuovo nel discorso del Papa popolarismo che nella sua visione vuol dire popolo di comunità o comunità di comunità ma che nella cultura italiana il tema popolarismo è l'antico tema di Sturzo. Diceva Sturzo il popolarismo è democratico ma differisce dalla democrazia liberale perché nega il sistema individualistico e accentratore dello Stato vuole lo Stato organico e decentrato è liberale perché si basa sulle libertà civili è sociale nel senso di una riforma di fondo del regime capitalista ma la grande soluzione quella che noi la strada lunga paziente che non si sa dove arrivi è popolare un mondo desertificato di comunità questo è un percorso che io sento e condivido da anni e questa è la sfida delle periferie urbane e questa è la sfida del mondo delle campagne e questa è la sfida della megalopoli globale che sta sempre più diventando un mostro in cui non si può vivere e non ci si può incontrare a San Paolo del Brasile i ricchi girano in elicottero se sei va in macchina se sei medio povero e per i poveracci c'è la strada e il rischio della strada e allora io credo che questo è un punto molto importante costruire comunità che sappiano rappresentare la biodiversità dell'esistenza e sappiano valorizzare la biodiversità della terra e credo che la strategia di Francesco sia una strategia di non contrapporsi ai signori della globalizzazione ma sia quella di costruire percorsi anche lunghi ma alternativi e quindi questo è un libro importante per la terra per le questioni ecologiche per la Chiesa e per l'umanità io qui concludo su un concetto importante io ho detto il dialogo tra il diavolo e l'acqua santa tra un agnostico pio espressione molto sapiente perché l'agnostico è colui che non sa e la pietà Francesco dice è la pietas verso la terra usa proprio questa espressione è il suo un atteggiamento nobile nei confronti della terra dice ma qui c'è un punto fondamentale che emerge da questo dialogo e che è la proposta che Francesco va facendo tu hai parlato della critica Francesco è verissimo mai nella storia abbiamo visto un Papa così criticato anche sbeffeggiato ma c'è un aspetto secondo me ancora più drammatico lasciare cadere le proposte che Francesco fa sistematicamente a me mi colpì molto Bauman Assisi quando incontrò Francesco proprio veniva prima marxista polacco poi Israele poi gli disse a Francesco lei per me è la luce in fondo al tunnel perché mi libera dal pessimismo in Francesco c'è l'idea della alleanza è questa che viene sistematicamente rifiutata non dell'assorbimento dell'altro non dell'alleanza contro ma uno dei concetti chiave è l'alleanza e qui è la sua simpatia per l'Europa e la chiave dei suoi discorsi fatti all'Europa è l'alleanza e per questo la vostra conversazione il lavoro insieme e questo libro è un testo di alleanza e in questo senso l'alleanza può essere con tutti con le esperienze grandi e con le esperienze piccole e l'alleanza vive attraverso il dialogo ma il dialogo voi lo dite ha bisogno di spiritualità ora che il Papa parli di spiritualità deve farlo che parli di biodiversità no anche se un recente convertito ma a me sembra molto molto interessante il discorso che Carlo fa sul tema della spiritualità un discorso che gli è maturato dentro nella sua nel suo lavoro nella sua esperienza nel suo rapporto con la gente di tutto il mondo perché incontrando le comunità anche più periferiche anche più soffocate dalla storia globale ci si rende conto della forza della spiritualità e l'uomo globalizzato e massificato che purtroppo dentro non si ritrova niente ma non si ritrova niente perché non c'è tempo per pensare per contemplare per incontrare per amare ma solo per consumare roba terra altri e allora Francesco qui dice la vera laicità ha un'apertura trascendente e non potrebbe essere altrimenti se così non fosse si toglierebbe alla persona la possibilità di trascendere se stessa perché la spiritualità è innanzitutto la facilità con cui si resta colpiti dalle parole e dagli altri e la spiritualità è la capacità di trascendere in termini di trascendersi in termini cristiani conversione e ascolto ora io mi chiedo e giuro di concludere ora io mi chiedo è possibile moltiplicare questa strategia di alleanze io credo di sì io credo che questo è il nostro lavoro quando parliamo la prima volta di slow food era questo e questo si è ancora più moltiplicato e ricordo che parliamo di Sant'Egidio e in tutto questo c'è un grande valore del piccolo la grande tradizione spirituale e francescana di non disprezzare il piccolo i due o tre riuniti nel mio nome dice il Vangelo è l'espressione di una forza debole perché io qui su questo concetto che mi è caro vorrei concludere il piccolo i pochi la comunità che vive una esperienza autentica secondo la coerenza con la sua storia e la sua cultura ha una forza nel Vangelo noi leggiamo dove due o tre sono riuniti nel mio nome sono io ma leggiamo anche tutto è possibile a chi ha fede cioè il capovolgimento della tua noi siamo troppo abituati e viziati dall'immagine del muro di Berlino che a un certo punto il muro è crollato e il mondo è cambiato ma il processo di cambiamento di logoramento della globalizzazione o di riempimento della globalizzazione di umanità sensibilità ecologica e dialogo di comunità sarà un processo lungo tu parlavi sui temi ecologici di dieci anni io credo che bisogna avere la capacità di trasmettere la speranza che niente è perduto e che tutto può cambiare grazie 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 Andrea Riccardi per questa riflessione che potrebbe essere un capitolo diciamo ulteriore del libro sul tema dell'alleanza cioè alleanza che vive attraverso il dialogo il dialogo che ha bisogno di spiritualità diciamo mi sembra una lettura molto profonda diciamo di questo dialogo appunto tra il Papa e Carlo Petrini grazie a tutti grazie a tutti